Grazie a tutti. Basta così. Ottima preparazione, complimenti. 30. Una firma. Il libretto. Arrivederci, buongiorno. Arrivederci. Nocentini. Nocentini Laura. C'è i nocentini? No. Petroni? Nocentini. 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 facebook La motivazione più importante per il lavoro nella scuola e nella vita è il piacere che si prova di fronte al suo risultato. Albert Einstein 1961, tenuta a soldati, ottima annata Buongiorno amore Hai dormito bene? Sì sì Allora quanto? Che? Come che? L'esame quanto hai preso? Mamma non è andata bene Quanto hai preso dimmi 26 26 Va bene su, 26 non è un brutto voto Si può sempre rimediare Senza farti sciupare la media Mamma, questo non l'ha fatto il nonno? Sì, questo è il nono nella sua tenuta È già qualche anno che l'abbiamo messa in vendita ma nessuno si è fatto vivo Quanto Sì, questo è il nonno 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 Laura, almeno aspettami Ma non lo senti anche te questo profumo intenso e antico? Sì, si chiama Letame Insomma, perché mi hai portato in questo posto selvaggio? Ecco la risposta Questo è il mio nonno E questi vini erano sue Un tempo faceva un ottimo vino E quindi? E quindi oggi c'è anche Einstein Nella vita bisogna fare quello che ci piace E quindi? E quindi? Mio nonno si chiamava Soldati E guarda un po' cosa ho trovato Ho capito finalmente cosa voglio fare Il vino, proprio come lui Basta che lui fai pestare l'uva coi piedi No, te solo coi tacchi Ciao Laura, che faccia che hai? Mamma, si abiti Non credo che sia molto da festeggiare Perché? Perché non ho dato l'esame Come non hai dato l'esame? E non ho la media del 28 E allora che media hai? Non ho nessuna media Perché non ho dato nessun esame Laura, cosa stai dicendo? Sto dicendo che non vuoi più fare l'università E allora cosa vuoi fare? Il vino, come faceva il nonno Ciao Marcella La mamma si è firmata a comprare lo spumante Ora arriva Ma che ho detto? Gli hai detto che lo diceva anche Einstein? Però... ... 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